La promessa, anticipazioni di lunedì 30 e martedì 31 ottobre dove vedremo il matrimonio di Manuel avvicinarsi e Jana fare un disperato tentativo per fargli recuperare la memoria. Catalina porta Manuel nell'hangar e lo benda per fargli una sorpresa. Vuole infatti fargli vedere l'aereo che la ragazza è riuscita a ricostruire dopo l'incidente sperando che lui recuperi la memoria. Manuel alla vista dell'aereo rimane assolutamente senza parole. Catalina gli spiega che sono riusciti a ricostruirlo grazie all'aiuto del meccanico. Manuel è sconcertato tanto che chiede alla sorella che cosa voleva ottenere con quel gesto. Catalina gli spiega che voleva solo fargli ricordare quanto gli piacesse gli aerei e tutto il mondo dell'aeronautica. Manuel però rimane interdetto e risponde che non è così. Catalina gli spiega che volare era il suo sogno. A questo punto Manuel risponde appunto che era il suo sogno ma adesso non lo è più. Il sogno di volare infatti gli sta costando la vita. Catalina gli ribatte che la pericolosità di questa passione non gli era mai interessata ma Manuel dice che adesso ha cambiato idea e che vuole passare il resto della vita con Ximena e si augura che avrà una vita felice. Manuel comunque ringrazia Catalina ma se ne va lasciandola senza parole. Iana non sa ancora nulla di quello che è successo tra Catalina e Manuel e intanto va a parlare con Lope di quello che ha detto a Maria rispetto a Salvador. Lope si giustifica dicendo che non voleva darle informazioni di cui non era sicuro. Ma Iana cerca di capire chi gli abbia dato queste notizie e se sono effettivamente affidabili. Poi Iana va da Curro e gli chiede dove sia Catalina visto che la stava cercando. Curro risponde che non lo sa ma che lui stesso stava cercando Iana e gli ridà la statuina che lei gli aveva dato per portargli fortuna nel superare gli esami. Le dice infatti che finalmente è diplomato. Iana gli risponde che il merito è solo suo perché ha studiato tantissimo. Poi Iana gli dice che Eugenia sarebbe fiera di lui e lui la ringrazia molto per aver pensato a sua madre. Quindi Iana gli chiede che intenzioni ha ora, se andrà a studiare fuori e Curro risponde che questo è possibile ma ancora non ha deciso. Curro poi si incubisce e dice a Iana che il padre non è contento di lui e che è solo concentrato sul testamento del barone. Iana però lo rassicura dicendogli che a prescindere da tutti questo esame è un passo importante per il suo futuro. Quindi gli dice che farà preparare il suo dolce preferito da Simona. Mentre in cucina fervono i preparativi per il pasto arriva Catalina e Simona la ringrazia di cuore per aver parlato con suo padre affinché nessuno perdesse il lavoro. Catalina le risponde che oltre al fatto che loro sono sempre stati alla promessa sono davvero dei cuochi di talento e i piatti che escono dalla loro cucina sono degni di quella reale. Candela parla delle scuse ricevute dalla Marchesa dicendo che Cruz avrebbe potuto fare di più per loro dato che è proprio grazie a loro se hanno smascherato il criminale Don Camillo. Simona però minimizza e cerca di essere meno dura davanti a Catalina ma Catalina in realtà si schiera con Candela dicendo che Cruz è una donna molto orgogliosa ma che avrebbe appunto potuto fare di più per loro. Catalina infine confessa che per la faccenda del suo gioiello invece non si è nemmeno scusata con lei. I cuochi dicono che non è giusto ma Catalina dice che ha qualcosa in mente per fargliela pagare. Maria sta facendo il bucato con Teresa e cerca di chiacchierare un po' con lei. Teresa però è assorta nei suoi pensieri e sembra non ascoltarla tanto che Maria le chiede che cosa abbia. Teresa si scusa e dice che ha dei suoi pensieri. Nonostante Maria insista per farseli confidare Teresa le dice che non vuole parlarne. Poi Teresa fa per prendere il sapone per il bucato e vede una bottiglietta di qualcosa che sembra essere molto pericoloso come veleno. La ragazza lo prende in mano e rimane a pensare a qualcosa. Iana va da Catalina e le chiede come sia andata con Manuel. Catalina purtroppo le racconta che Manuel non ha mostrato alcun entusiasmo per l'aereo e la sua reazione è stata esattamente opposta a quello che loro si sarebbero immaginate. Catalina è molto dispiaciuta e Iana cerca di rassicurarla dicendogli che forse gli serve una mano per recuperare la memoria e ricordarsi anche la sua grandissima passione per il volo. Catalina però non è ottimista e dice che questa reazione di Manuel è figlia del suo nuovo modo di essere. Manuel infatti è cambiato. Iana nota che è cambiato molto da quando Ximena passa tanto tempo con lui. Catalina quindi confessa a Iana che secondo lei sia Ximena che Cruz lo stanno in qualche modo influenzando. Iana dice che potrebbero aiutarlo a ricordare ma Catalina risponde che ormai per Manuel quello è un capitolo chiuso. Durante la degustazione dei vini Ximena parla davanti alla famiglia riunita dei preparativi per il matrimonio. Alonso chiede come mai il duca non sia tra di loro ma Ximena risponde che il padre aveva molto da fare sempre per organizzare il matrimonio. In tavola arriva anche il dolce preferito di Curro, segno che Iana alla fine ha chiesto a Simona di prepararlo. Curro ne è molto felice e Cruz però nota che non è previsto nel menù. Quindi Catalina risponde che forse è stato un pensiero di Simona per festeggiare l'esito dell'esame di Curro. Nel frattempo Lorenzo rimane zitto e sembra non interessato. Manuel fa un brindisi per Curro, Catarina dice che deve essere orgoglioso del risultato dell'esame ma Lorenzo continua ad essere zitto e cupo. Cruz lo nota e gli chiede se abbia qualcosa da dire al figlio. Lorenzo risponde che gli dirà qualcosa quando sarà il momento giusto. Curro infatti ha deciso di continuare gli studi ma Lorenzo non è entusiasta. Cruz però ricorda al cognato che il barone aveva già predisposto che Curro continuasse a studiare. Lorenzo si giustifica dicendo che ha avuto molti pensieri per la testa ultimamente. Curro allora dice che evidentemente erano pensieri più importanti del futuro di suo figlio. La situazione è tesa e Alonso propone di fare una tregua in onore degli sposi. Mauro e Lope stanno parlando e Mauro gli chiede come va con Maria. Lope purtroppo gli dice che va male e infatti Maria lo incolpa del fatto che il suo fidanzato sia scomparso in guerra. Lope però crede che non sia colpa sua. Mauro dal canto suo si sfoga dicendo che è preoccupato per Teresa e che non pensava che la ragazza avrebbe sofferto tanto chiudendo la relazione con lei. Gregorio parla con Pia e le chiede se va tutto bene. Pia lo ringrazia e gli risponde di sì. Nel frattempo arriva alle loro spalle Petra che subito comincia a guardarli con uno sguardo giudicante. Gregorio le chiede se voglia dire qualcosa e Petra risponde che non vuole disturbarli dato che sembrava che stessero avendo una conversazione privata. Petra se ne va quindi Gregorio rimane solo con Pia ed entrambi si chiedono che problema abbia Petra e perché li guarda con quella malizia. Gregorio dice che prenderà provvedimenti nel caso in cui Petra non smetta di raccontare calunnie. Pia tuttavia gli dice di lasciar perdere perché Petra è protetta dalla Marchesa. Ximena è con Manuel ed esprime la sua grande ansia nello sposarsi con lui. Lei infatti pensa solo al matrimonio e non riesce a concentrarsi su altro perché la sua vita è cambiata da quando hanno deciso di stare insieme. Il matrimonio è solo il mezzo per suggellare il loro grandissimo amore. Lope dice a Simona che secondo lui Candela ha qualcosa che non va e le fa vedere la lettera che conservava nella sua tasca e che aveva ritrovato nel cestino. Simona sembra molto spaventata, farfuglia qualcosa riguardo il passato e strappa la lettera lasciando Lope senza parole. Catalina si presenta da Cruz con un pacchetto in mano. Nel pacchetto c'è il gioiello della madre di Catalina e Cruz ne rimane esterefatta. Cruz chiede come mai ce l'abbia lei e non sia nelle mani della nuova proprietaria. Catalina le risponde che glielo ha semplicemente prestato per indossarlo al matrimonio di Manuel. Cruz chiede se questa sia una provocazione e Catalina le risponde che è un modo per ricordare sua madre. Cruz allora molto indispettita le dice che lei è l'unica Marchesa de Juan. Maria vede Iana molto pensierosa e le chiede cosa c'è che non va. Nonostante le resistenze di Iana alla fine confessa a Maria che ha deciso di fare di tutto per far recuperare la memoria a Manuel. Maria è d'accordo e decide di aiutarla. Chiede quindi a Mauro se può parlare con Jimena su come apparecchiare la tavola del matrimonio. Mauro le risponde che pensava di parlarne con Gregorio ma Maria insiste e gli dice di parlare con Jimena. Mauro alla fine acconsente. Cruz discute con Alonso e gli dice che non capisce come mai abbia detto a Lorenzo che apriranno il testamento prima del matrimonio di Manuel. Cruz dice che non è giusto ma Alonso dice che ormai è inevitabile perché il notaio ha detto loro che non possono più rimandare. Cruz gli risponde che Catalina sta parlando male di lei e che si è fatta prestare il gioiello della madre per il matrimonio. Alonso le risponde che il problema è solo suo perché lei l'ha venduto. Cruz di questa risposta è molto amareggiata. Mentre Jimena va a parlare con Maria, Iana entra in camera di Manuel. Il ragazzo sulle prime sembra riconoscerla e ha uno sguardo molto sorpreso. Terminano così queste anticipazioni della promessa. Io sono Stefania, ho realizzato questo video in collaborazione con Carola delle Ragazze del Pomeriggio. Vi mando un abbraccio e vi invito a seguirmi per scoprire come procederà la storia perché il matrimonio si avvicina.